Oggi vi faccio vedere come preparare Ebiya Sai Itame Gamberi e verdure saltate in padella Gli ingredienti sono peperone piccole, friggitelli, cipollotti, zucchine, zenzero, aglio, salsa ostriche, sake, salsa di soia, aceto di mela, fecola di patate, zucchero, sale e pepe Qua non si vede ma anche gamberi, olio di semi e olio di sesamo Tutti gli ingredienti, le dosi lascio nella descrizione Questa è una ricetta da due porzioni Prima cosa prepariamo la salsa Nella ciotolina mettiamo 40 g di salsa di soia 30 g di sake 5 g di zucchero Io uso lo zucchero di canna integrale per dare il gusto più profondo Ma va bene anche lo zucchero bianco Un cucchiaino di aceto di mela Va bene anche aceto di riso o aceto di vino bianco Un cucchiaio di salsa ostriche Mescoliamo bene tutto insieme e mettiamo da parte Nella ciotolina mettiamo un cucchiaio di fecola di patate e un cucchiaio d'acqua Mescoliamo bene e mettiamo da parte Abbiamo il totale circa 150 g di misti peperone piccole e friggitelli Li tagliamo a metà per la lunghezza e eliminiamo i semi Dopodiché li tagliamo in diagonale con larghezza da circa mezzo centimetro Abbiamo circa 180 g di zucchine Dopo che abbiamo eliminato sopra e sotto La tagliamo a metà per la lunghezza E la tagliamo in diagonale circa 2 o 3 mm Abbiamo un etto di cipollotti Li tagliamo in diagonale circa mezzo centimetro Al posto dei cipollotti potete utilizzare anche la cipolla Ma utilizzando i cipollotti fa più gusto orientale La parte verde dei cipollotti la tagliamo in diagonale più sottili e mettiamo verso la fine Abbiamo un spicchio d'aglio, eliminiamo la buccia e facciamo tritato Prepariamo un cucchiaino di zenzero tritato Abbiamo 300 g di gamberoni Li sciacquiamo bene sotto l'acqua corrente Avendo comprati in pescheria ho trovato anche due schie che naturalmente non le butto Ma le metto insieme con i gamberi Eliminiamo il guscio dei gamberi Io sto usando gamberoni ma potete utilizzare anche mazzancolle che sono più piccoli Dopo che abbiamo eliminato tutti i gusci li asciughiamo con la carta assorbente Incidiamo con il coltello tutta la schiena dei gamberoni e eliminiamo l'intestino E li tagliamo metà o un terzo, dipende grandezza del gamberone Li mettiamo sul tagliere con un po' di distanza e mettiamo un po' di pepe bianco macinato e due pizzichi di sale Li mescoliamo con la mano con la delicatezza Li diamo una spolverata di un cucchiaino della fecola di patate Li mescoliamo di nuovo con la delicatezza in modo da fare arrivare la fecola di patate uniformemente Abbiamo una padella wok capiente e antiaderente e accendiamo il fuoco vivace Mettiamo circa un cucchiaio di olio di semi Quando si è scaldata bene la padella mettiamo i gamberoni Facciamo rosolare una parte senza mescolare troppo Dopo circa 10 secondi possiamo mescolare Rilasciamo di nuovo circa 10 secondi e poi mescoliamo Se mescoliamo continuamente si abbassa la temperatura e non possiamo ottenere la leggera bruciacchiatura esterno dei gamberoni Invece lasciando senza toccare la possono avere leggera bruciacchiatura Ma non dobbiamo neanche bruciarli per questo che ogni tanto muoviamo la padella Quando sono cotti circa al 50% li mettiamo da parte Nella stessa padella senza essere lavata aggiungiamo un cucchiaio di olio di sesamo Muoviamo la padella per farlo arrivare su tutta la superficie Mettiamo aglio e zenzero tritato Il fuoco manteniamo al medio Li soffriggiamo e facciamo uscire il loro profumo Alziamo il fuoco al massimo e aggiungiamo tutte le verdure In questo caso li mescoliamo subito per distribuire l'olio Stendiamo le verdure utilizzando tutta la superficie della padella E le lasciamo così per 10 o 20 secondi Dipende la vostra padella, materiale e grandezza Ci interessa farle avere la leggera bruciacchiatura e anche cuocere fino all'interno Le mescoliamo per farle avere la bruciacchiatura uniformemente Dopo una bella mescolata le lasciamo ancora ferme Ripetiamo queste cose fino a arrivare la cottura a circa 80% Per poter cuocere fino all'interno delle verdure che sono state tagliate grossolanamente Ci viene da mettere il coperchio e abbassare il fuoco Ma facendo così perderanno il colore vivace e la brillantezza delle queste verdure E anche la consistenza croccante Quindi se è necessaria piuttosto aggiungiamo circa 30 o 50 ml d'acqua Quando saranno cotte a circa 80% aggiungiamo i gamberoni E facciamo bella mescolata Aggiungiamo la parte verde dei cipollotti Dopo un'altra mescolata aggiungiamo la salsa che abbiamo preparato all'inizio Saltiamo la padella wok Il fuoco è sempre al massimo Quando sono cotti tutti quanti spegniamo il fuoco Rimescoliamo di nuovo fecola di patate e acqua E aggiungiamo un po' alla volta mescolando le verdure e i gamberi Riaccendiamo il fuoco al massimo Cuciniamo la fecola di patate e la mantechiamo Prima vi ho detto di aggiungere l'acqua di circa 30 o 50 ml Se necessaria per cuocere fino all'interno delle verdure E anche qua se vedrete che la mantecatura è troppo forte Aggiungerete un po' d'acqua Dopo l'ultima mescolata impiattiamo La nostra ebi yasai itame è pronta Un piatto allegro e nutriente E soprattutto soddisfacente quando lo mangiamo Insieme il riso cotto diventerà un piatto unico Altre verdure che possono andare bene in questa ricetta Sono la verza, il cavolo cappuccio a cono La cipolla, i germogli di soia, la carota, il broccolo Ma la carota che è più dura bisogna tagliarla più sottile E il broccolo bisogna restarlo al dente dopo che è stato tagliato prima Al posto dei gamberi potete utilizzare anche i calamari o tutte e due insieme Questo è un impiattamento con il riso cotto misto con i cereali Volendo possiamo mettere un pizzico di sale e un goccio di olio di sesamo sul riso Sarebbe ancora meglio se avremo la zuppa di miso Se vogliamo prepararla in pochissimi minuti Guardate un'altra mia videoricetta Che si chiama zuppa di miso istantanea Questo video termina qui Se vi ha incuriosito questa ricetta mettete un mi piace Iscrivendovi al mio canale potrete scoprire tante altre ricette giapponesi Cliccando l'icona della campanella riceverete il ravviso della prossima ricetta appena postata Grazie per aver guardato questo video fino alla fine Ci vediamo presto con la prossima videoricetta Ciao a tutti! Ciao a tutti!